Voglio acquistare dei giochi a prezzi bassissimi? Passo nel link in descrizione Ciao a tutti i salmoni e bentornati sul mio canale Oggi siamo alla parte 3 di Fast and Furious Corsolata C'eravamo lasciati con la morte di Sebastian Ma adesso andiamo alla prossima puntata I'm sorry I pushed you into this You didn't push anyone No, I pushed I have a habit of doing that Cam, honey, this is all on me They put you in cuffs? You set us up! Where are we? Now wait a second Did you cut a deal with Interpol? Are you their informant now? I am never forgiving you for this You done? Look, we're helping Interpol with the case Just like you, they're after Kai and his organization And was killing Sebastian part of the master plan? We were trying to save him Just like you Who is we? Dominic Toretto? Hold on The two of you are working for Interpol? How is this even possible? We're doing someone a favor A favor? For who? Nobody you'd know We believe the Tata Cool Are a supply chain For a larger criminal network What'd you think? You were ripping off a truckload of VCRs? Okay, we get that they're super scary So why did you help us rob them then? We wanted to force Kai to show himself You gave us a way to do that Without arousing suspicion It kind of amateurs to him Rude No, she's right Kai The man in the Mercedes We were just mosquitoes He was swatting away Kai likes to keep his foot soldiers close And his enemies closer You want revenge We want justice Interpol wants information What do you expect us to do? Make a decision Do you want to stay amateurs? Or take this to the next level? This is all Interpol can afford? I'm getting tetanus just looking at this place We're in the middle of a Moroccan desert Not many five-star accommodations around Wait We're in Morocco? Please tell me you know where Kai is hiding Not exactly He's been on the run since Barcelona We detected him in our food But after that, his trail went cold So he could be anywhere? He still needs supplies And a way to communicate Our drones have been getting shot down Whenever they go near this A data center we know has links to his organization Aw, he's camera shy There's no way to hack it from the outside That's why you two are going inside Us? Drive in Hack the server Get out This sounds awesome This sounds insane Interpol will set you up with fake backgrounds Strong enough to pass security You're also gonna have to learn that ancient, beautiful language called Arabic Whoa What are those? Been working on these for a while now Two desert machines built from the same parent chassis Sort of like siblings Well, the moonshine racer has my name written all over it Uh, no You'll be driving that Seriously? It's garbage Doesn't get any more anonymous than a van At least you finally got out of Barcelona And into the burning desert inside a crap ass rust bucket What do you think, Dom? Are we ready to pull this off? If I didn't believe you could do it I wouldn't have asked Okay, guys Ci siamo Col furgone Avete visto che sta prendendo Una piega Diversa nel gioco Però quanto mi è spiaciuto per seba We're in way over our heads I know I wish I could turn back time on all of this I still can't believe Sebastian's gone Did you seriously not know about his bad guy intel services? You saw what he was like when we first arrived? He hooked us up, got us a great deal on the house Everyone in Barcelona knew him He was the nicest guy He knew everyone from making bad business decisions And what, he deserved to die for that? Damn, Feeb No, that's not what I'm saying I just I just hate it that we're not behind the wheel of our own lives, you know? Yeah I know Well, this doesn't inspire confidence What's wrong? A bridge with a canyon way below us Come take a look We got this Just go slow, please That's all this thing can do anyway Man, look at this And I just realized you called Barcelona home What? No, I... Gotcha I knew you'd come around eventually You grew up I'm playing this part later in the pool Barcelona was... Limbo, wow If talking makes you feel better, then keep doing it But I don't have to listen Maybe we should just focus on the job You ever stop to think about how weird this is? Which part? Driving across the desert to infiltrate a super criminal secret data lair? Or... No, the Dom and Letty thing When we were running the street races, we were doing all we could to avoid the cops Crazy to think that they're now working with them When I met Letty back in LA, it was all pretty vague that her street racing days were maybe over Rumors are that Dom went to jail in Lompoc But then I also heard they turned up at a street race in London And now they're working with Interpol Put it all together and I think they've cut a deal Presumably with the guy they're doing a favor for That's a pretty sweet deal Really? You do the same? Traveling around the world taking down bad guys? Sure beats sitting in the garage praying for an accident to happen Always the rebel Just waiting for a cause Just waiting for a while But porco Diaz Eh, porco Giuda Mamma mia Sì, vabbè Oh ma Sai cosa vuol dire che non lo sto controllando io il furgone? Sta andando per il cavolo suono Allora, dai Dai, dai Perché loro vanno più Più veloci di noi Più fugati Non capisco perché Dai che Non è facile Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei il furgone del Kaiser? Eh, ti avevo capito, eh Non ti ho preso per poco Che ho vidato e fa la seconda manovra è troppo in fretta Dai, passa Eh, 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 eh Ti avevo capito, zio Guarda, mo ti tocco L'ho detto, eh Mo ti tocco E invece Mamma mia Mamma mia che tensione Mamma mia Mamma mia Cioè Raga Ho avuto un attimo paura Ok See you later Ok Ok, ci siamo quasi, eccoci qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, vediamo. Precati alla magazzina delle conzegni, qual è? Ah, lì, ok. Ok, consegni la merce. Raga, non so quanto è lunga sta puntata, o se è ancora la puntata di prima, ma adesso è 50 minuti di registrazione. Ah, grazie a tutti. Eh, beh, il tuo arbo fa leggermente schifo, eh. Ah, mi sono sparando, porco giuda. Ok. Oh, grande. Grandissima. Alla grandissima. Due piccoli. Due piccoli con una fava. Due piccoli con una fava. Good. Due piccoli con una fava. Due piccoli con una fava. Eh, qua poi non ho controllato io la macchina, quindi è normale. Ma bellissimo. Ehm, dov'è l'uscita, scusatemi? Voglio uscire da qui. E togliti dal Kaiser. Eh, non ho mai rotto il Kaiser, no? Ok. Ah, ok, ho capito che scena è. È quella del trailer. Ho capito, è una scena del trailer, eh? Sì, sì, esattamente. Regà, dobbiamo essere molto bravi qua. Donna mia, guarda qui che sta succedendo. Vedo, vedo cose, regà, vedo cose. V, se puoi sentiremi, chiederò la casa di Barcelona, tutto il tempo. Allora, non vedo. Ok. Ma cosa diavolo è successo? Ah, non lo so, guarda, non ho idea. Penso che siccome sarà tutto così, e non credo che voi vogliate vedere per tutto il tempo sta situazione, meno che non cambia, fare un taglio sicuramente. che vuol dire, non è che ci sta più di tanto l'azione ora. Allora. Ok ragazzi ce l'abbiamo fatta Vediamo cosa succede Una volta incontrati con Vienna Ok adesso torniamo tranquillamente alla base Però voglio dire L'azione diventa sempre più ampia E' sempre più bella Allora era giusto ok E' sempre più bella Siete una amica con Tej, però poi te ne sei andata senza dire niente a nessuno. Hai qualcuno giocato la punta? Non è possibile. Sì, sono solo scopriando loro. Bene, qua non c'era niente. Va bene. Si sembra che la storia è approcciata. Tu e Leti abbiamo conosciuto un po' molto tempo, certo? Sempre. Sì. È così come con me e Cam. Non mi ricordo il giard che abbiamo iniziato a giocare prima. Non mi credo che abbiamo fatto questo. Cam potrebbe potrezzare più di quello che pensi. Vabbè. Oh, questa parte ve la faccio vedere, raga. Quella della macchina. Sì. Ok, inseriamo quelli. No. Dai. Vieni da qua. Brutti fritti. No, no, no. Ti ho una buona donna. Ah, ma ho preso un'altra strada. Ok. Eh, non capisco. Mmm. Si guida male. In questo caso. Ok. Dai. Mamma mia se è difficile quello, raga. Deve essere concentratissimo qui. Sì. Ok. Ecco. Posso aggiustare? No, non è qui, ok. Ledi, abbiamo trovato chi è là di spazio. Gli attrappi, stiamo arrivando. a tutti quiet what is it something's not right get back everyone to your cars how are we supposed to catch a speeding train do you want kai or not not to be lame here but what are we supposed to do a train can't run without an engine can't interpulse and fighter jets or something even if they scrambled now they never make it out here in time so it's just up to the four of us isn't there an interpol raiding party or something we are the raiding party everybody spread out somebody really likes their train we gotta stop that gunfire already on it that's one we'll draw their fire get the next one one more to go that's it not going to pull those off yo cam let's see what you got ok give me a distraction and all disable them train heading into the tunnel ok 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 beh tipo GTA che passi da un personaggio all'altro eh porca giuda ok 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 Porco schifo. Dobbiamo andare un pochino più veloci. Bene. Ok, vai dietro a Letty. Ok, va bene. Ragazzi, vi giuro che non è semplice. Sembra facile, ma non è. No, vabbè. Aspetta. Salta sul treno. Ma quindi Vienna salta sul treno? Ok. Ok. I ragazzi. Perfetto. Ho un'idea. Ovviamente voi potrebbero ottenere i migliori toy. Aspetta. Benissimo. Preparati all'attacco imminente. Quindi. Quindi. Scusate. Non ho capito di passare a su campo. Aspetta. è stato un'acqua, non? è stato un'acqua, ma non è sicuro non si può essere in l'acqua di questi duelli. Wow, il ritorno sono proprio a scopo. Ci sono stati di ritorno. Ci sono stati di ritorno. Cosa? Non! Cosa? È un'eclipso! Eh ma io sono pura vita E' meglio si passa sul dom Penso che sia meglio passare sul dom Non so che bella niente di quello che devo fare Ah questi Tadakul non uccide E' meglio eliminare tutti i nemici In realtà i nemici però Tutti era sottointeso Stiamo messi Paluccio proprio Bene Stai guidati e viene E' un altro Ok, stai cercando di staccare il treno da l'ho Ok, stai cercando di staccare il treno da l'ho Vai Dai, forza Perfetto You let him get away Look, I get it You wanna avenge your friend I know how hard it is to lose someone But the device confirms that Kai was a supplier for something larger and scarier than you realize Try us Try us If you wanna slay a beast, you gotta cut off its head His name is Emil Elias Ormstrud He used to run rackets all over Europe back in the 60s Blackmail, extortion, murder for hire But never prosecuted Never caught Witnesses had a funny way of turning up in the morgue About 20 years ago About 20 years ago He moved his operations to America and claimed to go legit But Hobbes found evidence he was involved with Owen Shaw in the search for nightshade components And he's been making some new connections What does this Ormstrud have to do with that device? We've got someone on the inside with his current crew And we know he's been trying to get his hands on Eclipse Since we stole it from him though It means Kai will be heading to Ormstreet empty-handed And that's a meeting we definitely want to be a fly on the wall for When do we leave? You leave with Lady in an hour I'll meet up with you all later Wait, where are you gonna be? Looking for a race Raga Cioè, ma che caz... Non c'è parole Raga, sto gioco Ci ha avuto tantissime critiche per carità È pieno strappieno di bug Lo vedete anche voi Però, a livello di storia Ok, a parte il fatto che secondo me ci sono un po' Troppi filmati E... Pochi minuti a giocare Però è una bomba È una bomba Ma cosa cazzo abbiamo appena registrato oggi? Porca trota Sì, stupi catch me on side memes They're pickle rick memes Man, fuck! NORMI! When I die bury me inside a Gucci coffin May kiss all day in the rain no stopping J KILL JOSH A' make tracks too often I don't need a gold chain Cause we're too damn awesome When I die bury me inside a Gucci coffin May kiss all day in the rain no stopping J KILL JOSH